Ciao e benvenuto, oggi voglio parlarti del nostro corso amatoriale RLS. RLS sta per Rhythm, Lead e Sound, le tre materie fondamentali che vengono trattate all'interno di questo corso. Ci siamo chiesti come rendere professionale un corso amatoriale. La risposta è stata naturale, ridurre il numero delle materie a tre, approfondirle in maniera incredibile per permetterti di salire sul palco e suonare in serenità. Quando mi chiedono che tipo di corso è l'RLS, la mia risposta è sempre la stessa, è un corso divertente basato sulla pratica. Si suona tantissimo, dall'inizio alla fine della lezione, sempre. Le possibilità di frequentare l'RLS sono tantissime. La più famosa è quella di sabato una volta al mese ed è una festa. Se non hai la possibilità durante il fine settimana, può essere durante la settimana. Non puoi neanche venire alla RockHit Academy, puoi fare tutto ciò online tramite una webcam. Potrai svolgere lezioni di gruppo singole e con la frequenza che preferisci, mensile, bisettimanale o settimanale. L'RLS è un corso perfetto per tre tipologie di chitarrista. La prima, un chitarrista over 40 che suona da autodidatta da tanto tanto tempo, l'RLS gli è disegnato addosso esattamente come un sarto è in grado di realizzare il miglior vestito per te. È il corso per lui. La seconda tipologia di studente è quello universitario, che proprio perché studia tanto e ha poco tempo libero a disposizione e non vuole rinunciare alla sua passione, vuole delle informazioni che siano dritte al dunque e della migliore qualità. La terza tipologia di studente è quello del candidato ad altri due corsi che noi definiamo semiprofessionali o professionali, cioè il CCR o l'MCR, perché hai già i muscoli ben preparati. Bene, prima di tutto grazie per il tempo che mi hai dedicato. Dopodiché ti invito a prendere contatto con la segreteria. Cristina ti spiegherà tutto nel migliore dei modi e riuscirà a trovare un incastro tra il tuo tempo libero e le lezioni a disposizione. Grazie ancora.